Come curare il mal di gola in un giorno e in modo naturale La gola è una porta di ingresso per virus e batteri, e ciò la rende molto vulnerabile. Il mal di gola, in generale, è causato da raffreddore e influenza, ma può scatenarsi anche per altre condizioni come allergie o amigdalite, e per cattive abitudini come il fumo. Di seguito ti spieghiamo come alleviare il mal di gola in modo naturale. Succo di ananas e zenzero. Entrambi contengono proprietà antinfiammatorie naturali. Abbinandole in un succo naturale è possibile godere dei loro incredibili benefici. Frulla assieme un pezzo di zenzero grattugiato, qualche fetta di ananas e un po dacqua. Filtra prima di bere. Anche essi antinfiammatori, sono eccellenti per alleviare il mal di gola. Mescola 200 grammi di miele con due cucchiai di curcuma in polvere e un pizzico di pepe nero. Conserva in un barattolo di vetro e consuma uno cucchiaio ogni ora, fino a far alleviare il dolore. Infuso di zenzero e limone. È un rimedio potentissimo, che ci aiuta anche ad alleviare gli altri sintomi del raffreddore. Porta ad ebollizione mezzo litro dacqua, poi aggiungi due cucchiai di zenzero grattugiato e mezzo limone con la buccia. Bevi due tazze al giorno. Acqua calda e sale. Usa questa combinazione per fare gargarismi varie volte al giorno, ti aiuterà a ridurre linfiammazione della gola. Usa questa combinazione per fare gargarismi varie volte al giorno.